Ragazzi in presenza, allora vengo a fare la tua classe, dimmi un po' che emozioni fai essere qua, si vedeva allora, siamo contenti, una bella emozione dai, speriamo che vada tutto bene, certo, preoccupato? No dai, i ragazzi che impressioni avevi? I ragazzi ma in realtà l'impressione comunque è stata buona, la partecipazione è stata decisamente buona e sono stati sempre collaborativi eccetera, quindi il lavoro è stato scondotto normalmente adesso continueremo in presenza con un contatto fisico sicuramente differente dal punto di vista umano ma il percorso continua.